Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi sono qui per parlarvi di Disney+. Forse arrivo leggermente più tardi rispetto a tutti gli altri, ma sinceramente prima di parlarvi di Disney+, volevo testarlo, provarlo a fondo e crearmi un po' la mia esperienza personale così da potervela trasmettere meglio e parlarvi meglio di cosa me ne sembra. Ebbene, la prima domanda che tutti si fanno è Disney+, è migliore di Netflix? Netflix perderà moltissimi clienti a causa di Disney+. Ragazzi, secondo me, dopo un po' di utilizzo, dopo averlo spulciato per bene, la mia risposta è no. Sono due prodotti completamente diversi che si rivolgono a due tipi di pubblico completamente diverso o che comunque si vanno a compensare. Perché io, ad esempio, uso moltissimo Netflix, sono abbonato a Netflix ormai da tre anni, credo, e vale assolutamente la pena averli entrambi perché si completano. Su Disney+, troviamo tutte quelle cose più leggere, tutti i cartoni Disney, tutti i cartoni Pixar, Marvel, troviamo i Simpsons, troviamo Star Wars, tutto quello che non c'è su Netflix. Quindi è assolutamente un qualcosa in più, qualcosa che va ad arricchire la nostra possibilità di scelta. Bene, detto questo, detto che a parer mio i due prodotti sono completamente diversi e che si compensano a vicenda, adesso andiamo a parlare nello specifico di Disney+. Alla fine del video parleremo anche di prezzi e di come funziona l'abbonamento, eccetera, eccetera. Intanto parliamo un po' dei contenuti, di quello che io ho visto, che io ho trovato e che io ho aggiunto alla mia lista di cose da guardare. Al suo interno Disney+, è suddiviso in diverse categorie. Abbiamo quella Disney, abbiamo la Pixar, quella Marvel, Star Wars e poi National Geographic. E in aggiunta abbiamo anche un altro pacchetto che contiene i Simpsons con oltre 500 episodi e tutte e 30 le stagioni disponibili in Italia. Perché, se non sbaglio, in America in questo momento sta andando in onda la 31esima stagione, ma in Italia ne sono arrivate 30 e, con mia grande sorpresa, tutte e 30 le stagioni sono già disponibili su Disney+. Io, sinceramente, non mi aspettavo la trentesima, ero convinto fosse esclusiva di Italia 1 e, invece, l'ho trovata all'interno di Disney+. Sto già recuperando le ultime tre stagioni, io ero fermo alla 27esima, poi avevo un po' abbandonato perché non riuscivo a seguirla su Italia 1, anche perché mandavano gli episodi in ordine sparso, ne saltavano alcuni, alcuni li hanno ottenuti da parte per gli speciali di Halloween e di Natale, eccetera, eccetera. Quindi mi risultava ormai difficile seguirla su Italia 1 e avevo un po' abbandonato. Con questa scusa sono riuscito a rimettermi in pari, quindi sono già arrivato alla 28esima stagione e sto andando bello spedito. Quindi, i Simpsons, secondo me, assolutamente nota positiva. E da qualche giorno è arrivato anche un corto esclusivo Disney+, proprio a tema Simpsons, con Maggie come protagonista, che è davvero molto molto carino, dura circa 6-7 minuti, ed è stato proiettato nel cinema in America prima del nuovo film Disney Pixar, se non sbaglio si intitola Onward, ma non sono sicuro della pronuncia del titolo, che sarebbe dovuto arrivare anche in Italia a breve, ma che al momento è stato sospeso e non si sa se arriverà direttamente su Disney+. Ma, detto questo, passiamo all'altra categoria presente, che è quella di Star Wars. All'interno abbiamo la serie esclusiva The Mandalorian, che io non ho ancora guardato, e poi tutti i film della saga di Star Wars. Sono presenti tutti i film ad esclusione dell'ultimo, l'ascesa di Skywalker, che è l'unico che non ho ancora visto, e quindi spero lo inseriscano presto in catalogo. E poi sono presenti anche Solo e anche Rogue One, quindi tutti i presenti titoli di Star Wars. E, ragazzi, altra categoria molto molto interessante, secondo me, è quella di National Geographic. E, ragazzi, io ho già aggiunto diversi documentari alla mia lista di cose che vorrò guardare in futuro. Alcuni li ho già visti, ne ho visto uno molto molto bello dedicato ai pinguini, ed un altro invece dedicato alle scimmie, e un altro ancora che è stato inserito da poco invece dedicato a una famiglia di elefanti. Ora, non ricordo esattamente i titoli, ma, ragazzi, sono molto molto belli, e, naturalmente, durante il mio racconto ve li mostrerò qui accanto a me. Una serie che è stata appositamente realizzata da National Geographic per Disney+, è Il Mondo secondo Jeff Goldblum. Io ho visto la prima puntata di questa serie, la trovo molto molto carina. Troviamo Jeff, che ci parla di un oggetto di uso quotidiano, e ci racconta tutto quello che c'è dietro, tutto il mondo che c'è dietro quell'oggetto. È la prima puntata dedicata alle sneakers, ma ne sono già uscite in questo momento quattro, e la seconda è dedicata al mondo del gelato. Sono tutte cose che interessano Jeff fin da bambino, e lui ci porta a scoprire quello che c'è dietro. Ed è davvero molto molto interessante, mi è piaciuta tanto la prima puntata, dura circa 30 minuti, ma scorre via che è una bellezza. Ci sono anche all'interno di National Geographic dei documentari realizzati da James Cameron, che ho trovato molto belli e interessanti. Uno l'ho già visto, ed è quello sul Titanic, dove ad esempio ci parla di cosa avrebbe cambiato oggi nel suo film Titanic, quali sono le cose che forse avrebbe dovuto fare meglio, quali sono le cose che ha azzeccato alla luce delle nuove tecnologie, delle nuove scoperte relative al Titanic, e ci sono anche delle interviste ai discendenti dei protagonisti del film Titanic, perché molti dei personaggi all'interno del film erano basati su personaggi veri, e in questo documentario James Cameron proprio incontra i discendenti di questi personaggi, e l'ho trovato molto molto interessante, e ce n'è un altro dedicato alla ricerca di Atlantide, sempre di James Cameron, che non vedo l'ora di poter guardare. Ma troviamo anche una sezione dedicata a Pixar, con tutti i ragazzi, tutti i film Pixar usciti fino ad oggi, l'unico che manca credo che sia Toy Story 4, che dovrebbe arrivare a breve, ma per il resto sono tutti presenti i film Pixar, e sono anche presenti tutti i cortometraggi Pixar. Io ho fatto un intero pomeriggio di maratona corti Pixar, e ragazzi, i miei preferiti restano Lava e Piper, secondo me sono quelli più belli, Bao, molto molto carino anche, ma questi due sono quelli che più mi sono rimasti nel cuore quando li vidi al cinema, e anche questa volta hanno lasciato assolutamente il segno. Una serie originale Pixar è I perché di Forky, dove abbiamo Forky che affronta dei perché esistenziali, ad esempio cos'è l'arte, cos'è l'amore, cos'è l'amicizia, cosa sono i soldi, e tramite il personaggio di Forky e tutti gli altri personaggi di Toy Story, ci sono queste mini puntate da 5 minuti, dove ci viene spiegato appunto cosa sono queste cose, ma con tantissimo umorismo, e mi piace tantissimo il personaggio di Forky, anche il doppiaggio di Luca Laurenti, è davvero molto molto ben fatto, e la trovo molto carina. Tutte le nuove puntate dei prodotti originali Disney+, vengono rilasciati il venerdì. Quindi ogni venerdì abbiamo un nuovo episodio di tutte le nuove stagioni che si vanno ad accumulare a quelli precedenti. Naturalmente una volta terminati gli episodi, una volta usciti tutti gli episodi, l'intera stagione resta comunque disponibile su Disney+, cosa che ad esempio non accade su Naughty V o su Infinity, dove man mano che gli episodi vanno avanti, quelli precedenti vengono rimossi. Io non riesco a capire questa cosa, infatti ho disdetto l'abbonamento di Infinity tempo fa, perché non riuscivo a stare al passo, magari una serie era già arrivata alla decima puntata e mancavano le prime tre, perché queste erano già state rimosse. E trovo questa cosa assolutamente insensata. Per quanto riguarda invece la sezione Marvel, sono presenti tutti i film della Marvel, del Marvel Cinematic Universe, dal primo Iron Man fino a Avengers Endgame, sono presenti tutti i film del franchise, tranne quelli di Spider-Man, perché i diritti sono di Sony, ma secondo me prima o poi riusciranno a trovare un accordo e vedremo anche i film di Spider-Man sulle piattaforme. Al momento non ci sono, sono gli unici a mancare, ma io credo proprio che arriveranno. È presente anche, capita a Marvel, per chi se lo stesse chiedendo, sono tutti presenti sulla piattaforma. E questo è davvero molto molto bello, perché magari chi si è perso un film durante tutte le varie uscite, durante gli anni, o chi non ha mai avuto modo di guardare tutti i film del Marvel Cinematic Universe, questa è la volta buona per poterli recuperare tutti in tranquillità e goderseli uno per uno ad altissima definizione. Ma sono in arrivo anche dei prodotti, delle serie dedicate al mondo Marvel, come ad esempio quella dedicata a Loki, poi WandaVision, e The Falcon and the Winter Soldier. Quindi sono in arrivo diverse cose, al momento la piattaforma è online, in Italia, in Europa, da circa un mese, o giù di lì, forse anche meno, e quindi diamogli tempo, sicuramente man mano ingranerà tutto. Per quanto riguarda Disney, ragazzi, sono presenti tutti i grandi classici. A Lancio non era presente La Spada nella Roccia e Mulan, ma adesso sono stati aggiunti anche quelli, quindi sono presenti tutti i classici Disney. Abbiamo Bambi, Pinocchio, abbiamo Peter Pan, abbiamo Dumbo, abbiamo Alice nel Paese delle Meraviglie, Robin Hood. Sono tutti presenti, i film di Mary Poppins, abbiamo anche quelli più recenti, come Saving Mr. Banks, ma ragazzi, abbiamo titoli anche molto, molto più recenti. Infatti abbiamo il live action di Dumbo, che io non avevo visto, che ho recuperato grazie a Disney+. Poi abbiamo Mary Poppins Returns, abbiamo il live action del Re Leone, il live action di Aladdin, Ralph Spacca Internet, sono tutti film presenti già sulla piattaforma, a partire dal primo giorno. E io, spulciando il catalogo, ho trovato anche film che non mi aspettavo di trovare, ma che invece appartengono a Disney, sono stati acquistati da Disney negli anni, e che quindi, naturalmente, troviamo su Disney+. e per esempio, ho trovato con grande piacere tutta la saga dei Pirati dei Caraibi, che ovviamente questa è Disney, e va bene, questa era stata una mia dimenticanza, non avevo proprio pensato che ci sarebbe stata tutta la saga dei Pirati dei Caraibi, e infatti l'ultimo film, devo recuperarlo, perché non l'avevo ancora visto, ma ci sono anche Mamma ho perso l'aereo, e Mamma ho riperso l'aereo, che io non pensavo di trovare dentro Disney+. Abbiamo Sister Act 1 e Sister Act 2, che io ho già rivisto, e mi sono davvero divertito tantissimo, sono dei film che mi fanno davvero tanto divertire, WP Goldberg, secondo me, è bravissima. Poi abbiamo Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, che è un film che io da piccolo ho visto davvero tantissime volte, ma abbiamo anche Mrs. Dotfire, con Robbie Williams, abbiamo Edward Mani di Forbici, ragazzi, abbiamo tantissimi grandi classici, che è incastrato Roger Rabbit, ci sono davvero tanti, tanti film, e tanti altri ne arriveranno. Infatti ho preso anche degli appunti sulle prossime uscite, è atteso Toy Story 4, è atteso Maleficent 2, Frozen 2 arriverà quest'estate, Gli Incredibili 2 arriverà anche prima dell'estate, ma hanno annunciato anche delle creazioni originali Disney, per i live action, che verranno inseriti direttamente su Disney+, come il film su Crudelia, su Crudelia Demon, che è già in lavorazione, ci sarà anche un live action di Robin Hood, che sarà un misto tra computer grafica, e attori in carne ed ossa, a quanto ho capito, e poi anche il live action della spada nella roccia. E a proposito di live action, uno è già presente all'interno di Disney+, già col vostro abbonamento, ed è il live action di Lilia e Vagabondo, che io sinceramente non ho mai amato particolarmente, non è uno di quei cartoni che mi ha mai preso così tanto, ma devo dire che il film è molto molto carino, l'ho visto il primo giorno, quando ho aperto il mio abbonamento, e devo dire che è molto molto ben fatto, assolutamente allo stesso livello degli altri live action, che abbiamo visto al cinema, è dura circa un'ora e mezza, ma devo dire che passa via molto molto piacevolmente, e che vi consiglio assolutamente di guardare. Ma tra tutte le cose che ho avuto modo di guardare su Disney+, se dovessi sceglierne una, io vi consiglierei assolutamente il documentario a puntate originale Disney+, Imaginering. Ragazzi, si tratta di un documentario su come sono stati realizzati i parchi Disney, su come sono nati, come si sono evoluti nel tempo, come è nato ad esempio Disney in Parì, e tutto quello che c'è dietro un parco Disney, e lo trovo davvero molto molto interessante. Al momento sono arrivate sulla piattaforma le prime quattro puntate, e io le ho guardate tutte d'un fiato, sono davvero molto molto belle, non vedo l'ora la settimana prossima che esca la quinta puntata, perché si scoprono davvero tante cose, sia sulla persona di Walt Disney, sia sul funzionamento dell'azienda Disney. E, ultima chicca che vi voglio segnalare, non è un programma, ma bensì si tratta di una funzione di Disney+, che ho molto molto apprezzato, perché all'interno di ogni film, di ogni documentario, di ogni serie, trovate gli extra. Cosa vuol dire? Vuol dire che, se voi andate a guardare, ad esempio, il live action di Aladdin, nella sezione extra, troverete tutti i contenuti speciali, che voi trovereste all'interno dell'edizione, ad esempio Blu-ray. Quindi, per ogni film, nell'avection del Re Leone, gli extra sono tantissimi. Se, magari, vi piace Alice nel Paese delle Meraviglie, ecco che, negli extra, troverete tantissimi approfondimenti dedicati a questo cartone animato, alla sua realizzazione. Quindi, molto molto bella questa funzione, di trovare contenuti speciali, anche all'interno dei film presenti su Disney+. E, per alcuni film, anche ad esempio di Star Wars, o di altre saglie, i contenuti speciali sono davvero tantissimi. Parliamo di ore di contenuti speciali. Quindi, ne vale assolutamente la pena. Ma, adesso parliamo un po' di prezzi. Il prezzo, io lo trovo molto, molto vantaggioso. Si parla di 6,99€ al mese, o 69,99€ per l'anno intero. Quindi, significa che, facendo il pacchetto da 69,99€, voi pagherete 10 mesi, ma, in realtà, ne usufruirete di 12. Quindi, ragazzi, due mesi in omaggio. Ma, io, ad esempio, ho usato il preordine, e l'ho pagato addirittura 59,99€, avendo un altro mese, praticamente un mese e mezzo in più, in omaggio. Ma, al momento, è presente una promozione che vi dà diritto ad usufruire di Disney Plus per 7 giorni, completamente gratis, e, successivamente, potrete decidere se mantenere attivo l'abbonamento a 6,99€ al mese e disdirlo quando vorrete, o se rinnovarlo per un anno intero a 69,99€. La cosa molto utile è che è possibile guardarlo contemporaneamente su quattro dispositivi diversi, quindi, magari, in una stanza ci si può vedere un film, in un'altra stanza vostro fratello, vostra sorella potrà vedere un cartone animato, e, magari, in salone, i vostri genitori potrebbero guardare un documentario. E si possono associare fino a un massimo di 10 dispositivi diversi sull'account Disney Plus. Quindi, potrete registrare il vostro iPhone, il vostro computer, la vostra TV di camera, nel vostro TV del salone, fino a 10 dispositivi diversi, ma potranno guardare contemporaneamente Disney Plus quattro persone. Quindi, bisogna stare un po' attenti su questa gestione, ma devo dire che è molto, molto conveniente. Ragazzi, io vi lascio sotto in info box il link diretto per usufruire delle promozioni Disney Plus, per poter usufruire dei sette giorni gratuiti, quindi trovate tutto sotto in info box e anche potrete abbonarvi tramite il mio link direttamente affiliato, così da poter sostenere anche il canale. Per voi non cambia niente, per me è un grande aiuto. Quindi, ragazzi, fatemi sapere se anche voi siete abbonati Disney Plus, fatemi sapere cosa vi è piaciuto di questa piattaforma, quali contenuti avete già visto, quali contenuti mi consigliate, quindi cosa dovrei aggiungere alla mia lista di cose da guardare. Ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, spero di avervi tenuto 10 minuti di compagnia e per qualsiasi domanda mi trovate anche su Instagram come Antonio.seria, quindi commenti su YouTube e messaggi privati su Instagram. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fino alla fine, mi raccomando, date uno sguardo in info box e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao! Ciao! Ciao!